Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di domenica 5 marzo su Bitcoin. Sono le 23.16 e dopo l'anteprima voglio raccontarvi qualche cosa. Spero abbiate visto il precedente video perché ponevo delle questioni e chiedevo determinate cose. Perché? Per farvi riflettere ovviamente. Non perché sia in cerca di un seguito di zombie sudditi che se dico una cosa la fanno ma invece come sapete sono la ricerca di persone che abbiano voglia di essere concentrate sul trading con un unico obiettivo attraverso l'evoluta vedendo magari e potendo comprendere cose che magari a me possono essere sfuggite come centratura alternative piuttosto che altro. Nella vita peraltro mi hanno sempre insegnato che è importante donare senza aspettarsi ovviamente nulla in cambio e così siamo qui anche questa sera alle 23.17 della domenica. avevo posto appunto due questioni da qui è possibile che sia partito un nuovo T settimanale se qui ha chiuso il nostro settimanale a 6 giorni 3 e 3 riguardiamolo anche da qui 3 e 3 2 giorni allora 2 regole per far partire un settimanale violazione della swing settimanale ovviamente è tempo sopra un minimo precisamente questo minimo il minimo a 22.160 dollari qui non è stato violato perché sono stati fatti i 22.176 vi chiedo una gentilezza un aiuto su altri exchange questa candela delle 22.45 è rimasta sopra quella delle 22.45 del 3 perché nel caso vi do una buona notizia da cui effettivamente può essere iniziato un nuovo T settimanale ed ecco che do senza chiedere nulla in cambio perché do senza chiedere nulla in cambio? per il fatto che magari tra di voi salterà fuori una persona che dirà ah ok ho capito come funzionano le cose voglio approfondire lavoriamo insieme collaboriamo un po' come sta succedendo cosa che tra l'altro causerà determinati cambiamenti in meglio relativamente alla alla situazione di questo canale e a tante cose e collaborazioni che si possono aggiungere a partire appunto dal prossimo mese in avanti da qui può essere partito il nuovo T settimanale abbiamo il tempo abbiamo lo swing quindi facciamo attenzione perché perché di inverso come detto anche in precedenza siamo arrivati di soltanto a 4 t-3 qua unico ciclo inverso ribassista ovvero che spinge verso l'alto per ora il quinto ha ritracciato un po' ok siamo soltanto 28 barre su 44 massime ma ok l'ottavo t-3 ovvero il secondo t-3 in realtà se questo fosse un settimanale ha dato segni comunque di vita ha fatto dei massimi più alti rispetto al primo e a questo punto manca appunto una condizione di chiusura del settimanale inverso qual è la condizione avere un t-3 inverso ovvero un t-3 inverso ribassista ovvero il cui secondo massimo parte da un primo massimo sviluppo minimo fa un secondo massimo il secondo massimo sia superiore al precedente e noi abbiamo tempo per andare a fare questo massimo sì ne abbiamo al massimo possiamo arrivare a 44 barre come data belle cicliche su cui abbiamo fatto backtest da anni ok non campate per aria e quindi possiamo arrivare fino alla 10-45 di domani tenendo conto però che già qui abbiamo la condizione necessaria è sufficiente per la chiusura del quinto t-3 inverso adesso bisogna vedere che cosa succede a questa candela e se prova a tornare sopra questo massimo però per sicurezza perché non ci mettiamo anche un altro bell'allarme qui a 22.547 lo mettiamo perché perché se rimanessimo sotto questo massimo a 22.547 dollari per almeno 5 candele in realtà ne basta sono soltanto più 3 ok quindi fino a quella delle 1 2 3 dell'1 inclusa che quindi chiude all'1.45 e se successivamente a questo rimanere sotto questo massimo magari nel proseguio andassimo anche qui sotto cosa non necessaria è assolutamente però se comunque dessimo un movimento che rimane per un tot di tempo sotto questo massimo e poi tornasse sopra potremmo avere la possibilità di avere un sesto t-3 inverso che si vincola a ribasso l'inverso ovvero a salire e quindi teoricamente avremo anche un target dato da potenzialmente questa media mobile a 200 periodi è tutto in forza in divenire perché stiamo aspettando di avere una conferma che da qui si è partito il settimanale con un po' di forza magari a rialzo altrimenti è chiuso l'ottavo t-3 se rimaremo per 5 bar sopra questo minimo e poi se questo minimo è quello di chiusura dell'ottavo t-3 e poi ci finiremo sotto di nuovo andiamo sotto quindi dovremmo mettere anche un allarme sotto i 22.334 per sicurezza lo metto ricordate però che come di consueto io metto gli allarmi no 22.334 però ci sono volte che ho voglia di rimanere sveglio o metto anche la sveglia conseguente al possibile allarme e in questo caso dovrei mettere una sveglia che mi svegli dopo la quinta barra quindi dalle due e mezza in avanti oppure non non è consigliabile inserire operazioni automatiche a rialzo o ribasso soprattutto arrivando da questa lateralità soprattutto con la possibilità che da qui sia partito un settimanale oppure che debba chiudere ancora un settimanale e che quanto tempo ha al massimo per chiudere e questo è arrivato a 8 barre con la candela di oggi e ancora 3 teoricamente per cercare un minimo e però non chiudere il mensile e questo è il discorso per questo motivo il suggerimento come di consueto è a parte le riflessioni che abbiamo fatto e quindi le alternative che vi ho dato fatevi un bel sonno andate a dormire riposatevi perché intanto per ora di trip up per gatti ce n'è veramente poca di possibilità ce ne sono troppe per cui allenate quella cosa che soprattutto se siete giovani è difficile da fare allenate la pazienza ok direi che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo se il video vi è piaciuto e vi è dato spunti come al solito valutate di mettere un bel like altrimenti il mondo è perfetto così com'è in ogni istante buona serata a tutti